Questo dottore è un caso molto particolare. Vedo dalla sua cartella clinica che è affetto da mutismo e scarsa comunicazione con il mondo esterno. Sì dottore, infatti non ha nessuno, né amici né parenti. Potrebbe trattarsi di una semplice solitudine che però lui la vede in un altro modo. Sì dottore, infatti non ha nessuno. La solitudine qui non potrà mai fare del male. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS